Cari amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati alla normale programmazione. Però le dirette torneranno e soprattutto torneranno con gli autori che verranno a rispondere alle vostre domande. Quindi rimanete sintonizzati, seguiteci, iscrivetevi, attivate le notifiche, insomma fate tutto ciò che serve per rimanere sempre connessi con noi. Questa sera viene a trovarci per la prima volta, mi ha scritto, mi ha proposto il suo lavoro, il suo libro, mi è piaciuto molto come ha affrontato il momento di stasera che sarà molto molto interessante. Viene a trovarci, dicevo, Ivan Fiorillo che ha scritto un libro molto carino anche per la copertina, lo vedete. Questo giovane divulgatore ha deciso di occuparsi delle false credenze, ma attenzione non stiamo parlando di fake news, stiamo parlando di quelle certezze che abbiamo fin da bambini, fin da quando frequentavamo i banchi di scuola, ma che ad un'analisi soprattutto scientifica risultano essere assolutamente infondate, assolutamente false. Voi sapreste dirmi qual è il vero colore dell'acqua? Seguite questa puntata e scoprirete tante altre cose molto molto interessanti. Naturalmente vi lascio con il nostro simpaticissimo, brillante amico Ivan Fiorillo e noi ci vediamo la prossima settimana. Io sono Barbara Tampieri, questo è l'Orizzonte degli Eventi. Buon ascolto! Cari amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati. Questa sera ospito un giovane nuovo amico, Ivan Fiorillo. Ciao Ivan. Ciao Barbara, un saluto a te, ai tuoi ascoltatori e alle tue ascoltatrici. Grazie. Dunque, Ivan mi ha contattato, mi ha presentato il suo lavoro, il suo libro di cui parleremo questa sera, è un divulgatore, ha una trasmissione fissa su Twitch mi pare, no? Esatto, si chiama Podcast Fiore ed è in onda, in diretta ogni giorno da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20. Facciamo divulgazione, diamo il backstage di come si fa divulgazione. Ecco, quindi sarà anche interessante magari dare il link, come trovarti per chi vorrà continuare ad ascoltarti. Allora, tu hai scritto un libro molto bello, di cui mi hai parlato appunto quando mi hai scritto quella mail. Il titolo è L'acqua è blu ma non a scuola e c'è questo bellissimo Pinocchio in copertina e di che cosa parla questo libro? Perché tu mi hai un po' accennato, no? Di queste credenze a scuola che noi impariamo delle cose che in realtà non sono vere. Ma non si parla di fake news, non si parla di bufale, si parla di cose che si crede siano così e invece non è vero. Come per esempio il colore dell'acqua, ma ne parleremo. Quindi, Ivan, presentaci questo libro, come nasce. So che ha avuto anche un importante riconoscimento da parte scientifica, no? È stato presentato all'Università di Ferrara. Ecco, parlaci di questa acqua blu ma non a scuola. Tra l'altro, Barbara, nella copertina di questo libro, che ho scelto io perché mi piaceva molto quell'immagine, c'è, potremmo dire, una bufala antelitteram, perché appunto è rappresentato Pinocchio non sopra il pesce cane, come voleva la fiaba di Carlo Collodi, ma sopra una balena. Come invece ha voluto la versione disneyana appunto di questa storia del Novecento. Guarda, è stata innanzitutto la mia tesi di laurea triennale, ma già è nata come se fosse un libro. Infatti la mia intenzione non era quella di scrivere la solita tesi di laurea che si fa per conseguire il titolo di studio alla triennale. Volevo realizzare un qualcosa di più importante. Volevo che fosse appunto un vero e proprio testo scientifico. Quindi mi sono dato un bel lasso di tempo per realizzare il tutto, una vera e propria ricerca che c'è stata, andando direttamente nei luoghi, coinvolgendo molti esperti. Pensa che ho coinvolto circa una quindicina di docenti, di studiosi, eccetera, per poter realizzare appunto questa tesi che poi è stata pubblicata in maniera integrale e senza alcuna modifica, appunto come se fosse un libro. L'ho fatto anche per una motivazione pratica, cioè trattando un tema abbastanza scivoloso, perché comunque parlo anche delle bufale, delle fake news, cerco di delimitare il campo di indagine per spiegare cosa sono le bufale, cosa sono le fake news, cosa sono le teorie del complotto, eccetera, e cosa non sono quindi le false credenze, visto che poi mi sono concentrato appunto solamente su di queste. E quindi essendo un terreno abbastanza scivoloso, una questione problematica, ho voluto circondarmi di personalità assolutamente prive di qualsiasi problema per quanto riguarda il recepimento dell'argomento appunto da parte del pubblico. Con loro ho deciso quali false credenze inserire all'interno del libro, quindi non quelle più diffuse nella nostra mentalità, nella nostra vita quotidiana e da un punto di vista statistico, ma proprio quelle che possono essere più interessanti, sia perché magari possono essere problematiche per la nostra vita, e quindi ci possono causare, come dire, anche dei danni se non sappiamo bene che cosa sono, oppure semplicemente perché sono interessanti da approfondire e quindi è utile sapere come effettivamente o sono andate nel passato le cose oppure vanno ancora adesso le cose, quindi nel caso per esempio della fisica o della chimica. Dopo aver deciso con questi esperti appunto di quali false credenze occuparmi, e alcune le abbiamo anche scartate perché le abbiamo ritenute non troppo interessante appunto per questo approfondimento, mi sono concentrato sul riscontro, sull'analisi, sull'indagine di quante delle false credenze trovate e immaginate, scelte precedentemente, siano realmente presenti all'interno dei libri di scuola ancora oggi, ho avuto la fortuna, la possibilità di poter anche analizzare, osservare dei libri che ancora dovevano essere utilizzati nella scuola, che sarebbero stati presi, utilizzati dall'anno successivo, dall'anno scolastico successivo, eppure anche se cambiava l'edizione, il numero dell'aggiornamento, in realtà le informazioni erano praticamente sempre le stesse e si leggevano degli obrobri incredibili, mi ricordo, in un libro che sarebbe stato utilizzato dall'anno dopo, che era scritto, intanto era molto bello, era colorato, quindi comunicativamente parlando era certamente adatto, ma c'era scritto tra le altre cose, che mentre noi esseri umani abbiamo continuato a evolverci a partire da quando ci siamo separati, rispetto a quello che oggi noi chiamiamo lo scimpanzee, e quindi circa 7 milioni di anni fa, bene quella linea evolutiva invece non è cambiata, e quindi di fatto gli scimpanzee sono uguali al nostro antenato comune, che è assolutamente uno proprio. Sì, perché è negare l'evoluzione in pratica. Esattamente, bravo. E quando io ho portato questo documento a Guido Barbugliani, che è un biologo, è un genetista, e si occupa anche di evoluzione, e siamo rimasti assolutamente sbigottiti. Non funziona così l'evoluzione, perché anche se un organismo rimane abbastanza simile a quello che era prima, bisogna mettere in conto anche comunque le modificazioni comportamentali che ci sono state. Che poi si potrebbe anche mettere in dubbio, magari volendo, anche questa certezza sull'evoluzione, perché anche questo non è mai stato dimostrato, no? Assolutamente, infatti... Sono delle false credenze che si mordono la coda in pratica. Comunque si è... È come se si insegnasse il suvinismo ancora, Barbara, e questo è il problema, e non l'evoluzione nella sua versione più moderna. Di fatto è questo, continuano a inserire delle informazioni che magari venivano ritenute vere fino a 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, ma che non corrispondono alla moderna teoria dell'evoluzione, che è molto diversa rispetto al darwinismo ottocentesco, e non ha nulla a che fare, ma questo l'ho riscontrato anche all'università, ti devo dire. Mi ricordo che avevo guardato un tuo video, dove era presente anche Enzo Pennetta, anche un altro studioso, e parlava proprio di questo tema, e poi entra in contatto con quell'altro studioso, perché appunto io ho frequentato l'università, sono diventato archeologo, proprio nel campo della preistoria, del paleolitico, e quindi diciamo che ho studiato molto l'evoluzione. E devo dirti che anche nell'ambito accademico, sia per quanto riguarda alcuni docenti, sia per quanto riguarda proprio la forma mentis degli studenti, diciamo che ancora questo concetto non è stato ben recepito, cioè non è chiaro che il darwinismo è diverso dall'evoluzionismo. E in un seminario che poi ho tenuto all'inizio di quest'anno, sempre appunto presso l'Università di Ferrara, ho avuto occasione comunque di cercare di delimitare bene questi due concetti, che sono molto differenti l'uno dall'altro. Sì, forse ti riferivi al video dove parlavamo del libro di Massimo Ippolito. È bravissima, esatto. Sì, sì, dove si parlava appunto dell'anello, famoso anello mancante, che manca appunto e quindi non è una cosa da poco, ecco. Quindi questo libro di che cosa, su che cosa si è concentrato poi alla fine, perché come dicevi tu all'inizio, nell'introduzione ci sono, cioè tutta questa, mi ricordo che molti anni fa si parlava, soprattutto negli anni 90, si parlava molto delle leggende metropolitane, cioè di come certe notizie palesemente false girassero di bocca in bocca fino a sembrare diventare una testimonianza di qualcosa che fosse veramente accaduto. Ed era un fenomeno molto molto diffuso, perlomeno se ne parlava molto. Poi non se ne è più parlato, perché sono arrivate le fake news, cioè che poi ci sarebbe da dire, insomma, che l'accusa di fake news molto spesso è utilizzata più per delegittimare l'interlocutore che per altro. E poi ci sono naturalmente le vere fake news, che sono delle cose completamente inventate, utilizzate a volte anche dai media ufficiali, diciamolo, purtroppo. Ecco, tu invece hai concentrato il tuo campo di indagine su queste false credenze. Ecco, allora facci qualche esempio. So che tu soprattutto ti preoccupi a livello educativo dell'impatto che queste false credenze hanno nella fase evolutiva del bambino che sta acquisendo le sue prime informazioni anche proprio di apprendimento. Ecco, quindi facci qualche esempio di queste false credenze che probabilmente ci stupiranno. Allora, guarda, prima di avviare la mia ricerca io ho realizzato una specie di indagine di mercato, no? Per vedere quello che fino a quel momento era stato pubblicato nel campo appunto delle leggende metropolitane, delle bufale, del complottismo cosiddetto, eccetera, eccetera. Non esisteva però ancora un libro che facesse correttamente la distinzione tra bufala, la fake news, teoria del complotto, quello che io invece ho definito scetticismo e disinformazione mediatica. Non c'era nessun libro che quindi poneva anche, faceva degli esempi per ciascuna di queste categorie che sono differenti l'una dall'altra e quindi di fatto io poi realizzando questa indagine ho creato il primo libro dove si fa tutto questo e dove poi si va appunto a rintracciare le false credenze all'interno sia dei nuovi media e quindi attraverso quali meccanismi continuano a diffondersi in questi mezzi di comunicazione che fanno utilizzo della rete, del web e sia appunto all'interno di tutti i materiali didattici sia quelli cartacei e sia quelli digitali di quale scuola? Della scuola dell'obbligo praticamente quindi la scuola elementare e media perché? Perché naturalmente la scelta di una scuola diversa si fa dopo la terza media e quindi ho analizzato i libri dove effettivamente tutti i nostri bambini e i nostri ragazzi studiano appunto a scuola Di cosa stiamo parlando? Sono effettivamente le cosiddette leggende metropolitane i falsi miti, false credenze in che senso? Nel senso che non esistono delle posizioni differenti per quanto riguarda queste credenze ovvero la comunità scientifica non è spaccata e non c'è nessuno che metta in dubbio appunto la vulgata comune semplicemente alcune persone non sanno come stanno effettivamente le cose queste persone possono essere poche oppure possono essere molte all'interno della nostra società dunque il problema non è né nel campo della scienza né quantomeno nel campo della nostra come dire delle nostre relazioni tra persone è proprio un processo di comunicazione quindi la comunicazione della corretta situazione scientifica scientifica nel senso più alto del termine non è avvenuta correttamente e si ipotizzano anche i meccanismi perché, per quale motivo non è avvenuta correttamente per ogni falsa credenza che ho riscontrato infatti un falso mito, una leggenda metropolitana sono andato a recuperare il momento storico in cui è nata la falsa credenza e poi sono andato a recuperare anche il momento invece in cui per la prima volta si è dimostrata diciamo la fallacia dal punto di vista scientifico appunto di questa credenza tuttavia se appunto ancora non le riteniamo vere vuol dire che c'è stato un problema e c'è un problema ancora maggiore se alcune di queste false credenze vengono riscontrate nei libri di scuola allora io sono partito selezionando 10 false credenze insieme a questi esperti le ho divise in 5 innocue, 5 pericolose ma non sapevo come sarebbe andata a finire ovviamente l'indagine, quando una persona inizia a scrivere un libro inizia a scrivere una tesi sa qual è il punto di partenza sa qual è la tesi che vuole dimostrare la mia tesi era appunto che ancora nei libri di scuola vengono presentate queste cose mi ricordavo infatti di averne studiate alcune quindi ero certo di averne ritrovate altre anche nei libri appunto recenti e poi alla fine alcune di queste le abbiamo trovate altre invece non le abbiamo trovate ma naturalmente non sveliamo come andate a finire cara Barbara ti posso fare però ovviamente alcuni esempi parliamo della grafologia avete in mente no che cos'è ovvero lo studio della nostra grafia secondo alcuni questo studio sarebbe anche in grado di rivelare effettivamente come siamo fatti noi quindi qual è la nostra psicologia i tratti del nostro carattere eccetera eccetera bene sono stati realizzati anche degli esperimenti scientifici che avevano l'obiettivo di verificare effettivamente se ci fosse questa capacità appunto nelle grafologi nei grafologi nei grafologi in coloro che studiano appunto questa materia oppure se fosse tutta fuffa alla fine che cosa hanno riscontrato? gli studi scientifici più ampi che effettivamente non c'è distinzione tra chi è un esperto di grafologia e chi invece non lo è per riuscire a determinare alcuni tratti specifici delle persone che si hanno di fronte per esempio il mestiere che fanno eccetera eccetera appunto analizzando la grafia la grafologia invece è importante per fare che cosa? è importante per riconoscere le persone perché effettivamente ciascuno di noi ha una grafia diversa l'uno dall'altro e quindi ci sono stati anche dei casi eclatanti nella storia dove effettivamente si è riscontrato la certezza quasi assoluta di capire chi avesse scritto quel testo ma si può capire anche un'altra cosa si può capire come quella persona stava nel momento in cui ha scritto quindi non i caratteri della personalità in generale ci sono altri metodi per individuare quelli ma proprio come si sentiva la persona mentre ha scritto quel testo facendo analizzando sia l'altezza delle lettere sia la distanza tra le lettere sia come il testo è stato distribuito nel foglio eccetera eccetera quindi non solamente la grafia di per sé altre cose quindi appunto rispetto a quelle che qualcuno invece ci aveva detto molte persone ancora ritengono che la grafologia sarebbe invece per quelle altre caratteristiche quindi già questa materia diciamo che l'abbiamo ridimensionata ma diciamo anche che abbiamo consegnato l'effettivo status l'effettivo valore che effettivamente questa disciplina può arrecare appunto alle persone che le portano avanti qualcun altro invece dice che non serve a niente ma diciamo che le ricerche non gli hanno non gli hanno dato ragione poi c'è un'altra falsa credenza che ha a che fare invece con l'utilizzo delle bevande alcoliche quando abbiamo freddo e quindi abbiamo bisogno di riscaldarci avete presente i cani di San Bernardo io nel libro ho mostrato quando per la prima volta quei cani sono stati disegnati con il barilotto di Brandy al collo immagine molto molto efficace la credenza che l'alcol serve appunto per farci ristabilire per riscaldare il corpo deriva proprio da lì ma c'è stato un disegnatore un pittore che per la prima volta forse per delle sue abitudini non molto diciamo ha inventato questa cosa ha disegnato uno di due cani che appunto aveva rappresentato appunto con questo barilotto al collo tra l'altro fu proprio lui a chiamare questi cani che un tempo venivano chiamati i mastini delle Alpi proprio come i cani di San Bernardo questi cani sono molto forti li vediamo sono molto possenti ed erano stati utilizzati da molto tempo come animali da soma in questi territori molto aspri come possono essere le Alpi le montagne per esempio in Svizzera venivano utilizzati sono continuati ad essere stati utilizzati anche nel novecento per trasportare anche dei corpi quando succedeva qualcosa qualcosa di grave ma la loro attività è sempre stata assolutamente sobria e mostro anche il momento in cui è stata realizzata la ricerca scientifica più completa recentemente che appunto ha evidenziato come non solo non è vero che noi bevendo delle bevande alcoliche ci possiamo riscaldare ma addirittura succede il contrario ci possiamo raffreddare dobbiamo distinguere due situazioni le situazioni estreme da quelle invece normale le condizioni normali bene quando siamo in una situazione estrema per esempio di estremo caldo il nostro corpo percepisce tanto caldo se noi assumiamo delle quantità elevate di bevande alcoliche possiamo andare in ipertermia se invece la situazione di estremo freddo allora possiamo andare nella situazione opposta di ipotermia non ci riscaldiamo e questa cosa vale anche quando le condizioni sono normali non sono estreme il nostro corpo assumendo delle dosi anche moderate di alcol non si riscalda al contrario va appunto in ipotermia ci sono dei meccanismi particolari anche che regolano tutto questo in pratica è la percezione che abbiamo noi del nostro organismo che varia e quindi varia la nostra percezione in alcuni casi varia anche la risposta neurologica che abbiamo nei confronti appunto della sensazione che percepisce il nostro corpo si dilatano i vasi sanguigni eccetera eccetera fatto sta che cambia la percezione che abbiamo dell'organismo e quindi se siamo in una situazione estrema certamente non dobbiamo bere delle dosi di alcol e se siamo invece in una situazione non estrema dobbiamo contenerla molto perché basta che cediamo un po' e allora iniziamo ad avere dei comportamenti che cercano di limitare la nostra percezione di caldo quindi magari iniziamo a svestirci eccetera ma facciamo peggio perché appunto il nostro corpo si sta raffreddando sempre di più interessante molto interessante anche quella quella del San Bernardo sinceramente non lo sapevo che era stata così un'idea di un disegnatore a far nascere questa quest'idea senti ci sono anche delle delle false credenze per quanto riguarda alcuni fenomeni fisici o chimici sì ci sono anche queste false credenze e ti avviso che alcune di queste le abbiamo ritrovate anche nei libri di scuola appunto ma credo ciascuno di noi abbiamo imparato tutti a scuola che per esempio l'acqua è trasparente o che gli stati della materia sono appunto tre quando invece la credenza che siano tre deriva semplicemente da proprio dal dal primo momento nel quale nella storia ci si è approcciati in maniera problematica nei confronti del mondo quindi diciamo con la nascita della filosofia quantomeno arriviamo addirittura fino a talete perché perché tre erano gli stati dell'acqua cioè l'unica sostanza sul nostro pianeta che si presenta in tutti e tre gli stati che conosciamo quindi quello solido quello liquido e quello aeriforme da dire che gli stati dell'acqua sono tre a dire che gli stati della materia oggi sono tre ce ne passa anche perché poi c'è stata la scoperta di benjamin franklin del quarto stato cosiddetto cioè il plasma in realtà sarebbe il primo stato perché il 99% della materia che possiamo osservare nel nostro universo è fatto proprio da plasma quindi semmai gli stati sono principali sono tre ma sul nostro pianeta e comunque abbiamo il plasma anche sul nostro pianeta pensiamo ai fulmini pensiamo alle fiamme pensiamo anche ai prodotti da laboratorio quindi i televisori al plasma per esempio eccetera eccetera la cosa interessante è che tra l'altro praticamente ogni giorno si fanno scoperte nuove si scoprono altri stati ma si creano anche degli altri stati in laboratorio e quindi parliamo veramente di decine e decine di stati in cui la materia si può esprimere dove sta la difficoltà allora nel dire che gli stati principali della materia sono tre piuttosto che dire che gli stati sono tre e basta perché un bambino che impara questa cosa vuol dire che se poi non approfondirà per conto suo o perché magari continuo questi studi eccetera effettivamente saprà che gli stati sono tre quindi sembrerà strano una notizia che parlerà di un altro stato deve effettivamente andare a scardinare una conoscenza che ha preso a scuola e poi vedremo infatti quanto sono determinanti queste conoscenze che si apprendono in quella fascia di età e poi c'è la considerazione dell'acqua cioè fino agli anni 90 pensavamo che fosse effettivamente trasparente e quindi il mare i laghi erano blu perché appunto riflettevano il colore del cielo invece da una scoperta scientifica che descrivo all'interno del libro e che è venuta proprio grazie a due studiosi che si sono posti una domanda perché si erano resi conto che alcuni laghi alcuni mari erano blu anche se il cielo non era blu e quindi anche se c'erano per esempio delle nubi che copriva il colore effettivo della nostra atmosfera allora poi hanno scoperto qualcos'altro di fatto qual è la situazione è trasparente quando non ci sono abbastanza molecole d'acqua per riflettere il colore blu perché invece normalmente quando le molecole sono di più quando ci sono decine e decine di metri d'acqua allora viene riflesso il colore naturale intrinseco dell'acqua che è appunto il blu e questo avviene anche nello stato solido dell'acqua quindi nei vari tipi di ghiacci una parte abbastanza rilevante ce l'ha anche il cielo ma così come anche i corpi che galleggiano nell'acqua hanno una parte rilevante per quanto riguarda il colore che viene riflesso e quindi oltre al blu intrinseco dell'acqua ci sono anche altri colori anche in questo caso allora qual è la difficoltà nello scrivere all'interno di questi libri che il colore dell'acqua quando ce n'è poca è trasparente quando invece ce n'è tanta è blu cioè non c'è una difficoltà di concezione per quanto riguarda ciò che può apprendere il bambino effettivamente non esiste nessuna difficoltà del genere si può tranquillamente spiegare e così facendo appunto si evita di trasferire una conoscenza che è errata che è appunto infondata quando infatti io ho raccolto queste farse credenze c'è poi anche quella che parla della sezione aurea degli uomini cavernicole eccetera eccetera sono andato direttamente poi dai professori dagli studiosi che effettivamente studiano queste cose ogni giorno perché è il loro mestiere ma ovviamente non sono in collegamento diretto con il mondo della scuola con il mondo dell'educazione di solito lavorano nelle università fanno ricerca infatti una cosa anche che è stata rilevata nelle interviste che poi ho fatto allora che ho messo nel libro è che c'è uno scollamento che andrebbe ridotto tra il mondo della scuola il mondo degli insegnanti il mondo dei maestri e il mondo delle università dove effettivamente si fa la ricerca gli unicienti in Italia in cui si fa ricerca si può fare ricerca sono le università e il CNR e quindi se noi non ci adeguiamo a tutto questo e quindi non ci avviciniamo a chi fa ricerca in prima persona ci allontaneremo sempre di più a quello che è la conoscenza effettivamente attuale è nella materia appunto che stiamo che stiamo trattando ci sono delle conseguenze drammatiche per quanto riguarda quello che noi impariamo apprendiamo in questi anni di vita devi sapere Barbara che io sono anche un educatore un educatore brevettato e sono capo scout quindi all'interno di quel mondo e quindi mi sono molto divertito a studiare appunto quali sono i danni da apprendimenti errati appunto che vengono appunto insegnati ai bambini effettivamente ci sono le ricerche scientifiche sono chiare cioè ciò che tu apprendi in quella fascia di età fino ai sei anni ciò che apprendi soprattutto in famiglia e con le relazioni che la famiglia e gli amici di famiglia eccetera e poi a partire dai sei anni in maniera preponderante per quanto riguarda la scuola bene determina effettivamente la persona che tu sarai quando diventerai grande quindi il lavoro che farai il modo che avrai di relazionarti con le altre persone il voto che darai ai politici e tantissime altre cose non sarai naturalmente consapevole di questo però quella sarà la base su cui costruirai tutto e quindi è chiaro che se noi diamo delle basi sia errate e sia non solide perché basta poi una notizia diversa fondata che allora ti metti in discussione tutto e allora ecco che rischi di vederti crollare letteralmente il mondo e allora poi la diciamo che interviene un meccanismo psicologico può intervenire questo meccanismo che è quello della difesa e quindi siccome vedi che molte cose che tu stai e con le quali ti stai interfacciando non trovano spazio nella tua visione del mondo allora rischi di chiudere gli occhi di estremizzare ancora di più quelle che erano le tue credenze la tua posizione e di proseguire così potremmo dire verso la distruzione cioè allontanandosi sempre di più dalla verità quando invece dipende anche abbastanza dal carattere ti metti in gioco e quindi capisci che effettivamente quella cosa può essere sbagliata allora cerchiamo di capire come effettivamente è andata in quel caso in realtà le cose vanno bene ma comunque hai perso del tempo e hai perso delle possibilità certamente che potevi avere mi vediva in mente che per insegnare la differenza fra tanta acqua e poca acqua basta fare l'esempio della pozzanghera e del mare no? che quindi perché non è una cosa che un bambino riesce a capire anche piccolissimo riesce a capire bene no? questa differenza fra poco è tanto infatti la questione della quantità è già insita nel bambino all'età di sei anni già da prima quindi c'è nessuna difficoltà di comprensione tu hai parlato infatti di un esperimento di fatto un esperimento che si può fare ma la cosa strana è un'altra che alcuni di questi libri presentavano degli esperimenti che però non funzionavano questo l'ho riscontrato con un esperto per esempio di fisica abbiamo trovato un esperimento che voleva dimostrare una cosa all'interno appunto di questo libro ma questo fisico mi ha spiegato che quell'esperimento non dimostrava affatto la cosa che diceva di voler dimostrare quindi i bambini si ritrovavano a fare quell'esperimento a imparare quella cosa che però era una cosa concettualmente errata e questo si vuole ancora più grave rispetto a quello che abbiamo detto prima la credenza degli stati la puoi aggiustare quantomeno quando diventi grande ma quando l'errore è proprio concettuale effettivamente devi ricominciare quasi da capo in questi nei materiali che ho raccolto e che ho inserito tra l'altro nel libro proprio per essere il più trasparente possibile il meno attaccabile possibile cioè noi ragioniamo su quei materiali insieme agli esperti ma quei materiali comunque ci sono e quindi chiunque li può leggere li può osservare bene ci siamo divertiti non solo a vedere come quelle false credenze venivano presentate in questi materiali ma anche abbiamo valorizzato quello che di positivo c'era quindi per esempio delle modalità didattiche coinvolgenti che certamente devono essere sottolineate e devono essere prese come esempio ma abbiamo trovato anche tanti altri errori che non erano come dire messi in preventivo e c'è proprio tutta la come dire la discussione c'è tutta l'analisi che hanno fatto questi esperti all'interno di queste interviste per quanto riguarda la sezione aurea per esempio abbiamo trovato degli errori madornali perché perché questi esempi di questo argomento veniva portato avanti da persone non esperte del tema e quindi addirittura nello stesso documento si contraddicevano prima si riferivano alla sezione aurea poi si riferivano all'inverso del numero della sezione aurea che di fatto è un altro numero poi parlavano della storia dell'arte dalla storia dell'arte passavano alla musica al corpo umano eccetera senza soluzione di continuità dicendo un sacco di cose errate e tutto questo attenzione non a bambini di terza media ma a bambini delle elementari già dalla terza elementare si presentano argomenti così complessi argomenti che non vengono padroneggiati nella stragrande maggioranza dei casi dagli insegnanti che naturalmente si trovano a lavorare lì vengono anche presentati nei libri di scuola si fanno delle attività con powerpoint eccetera anche con esperimenti ma anche in quel caso non si riesce assolutamente a dimostrare nulla e si forniscono delle informazioni errate ai bambini una matematica Alessandra Fiocca mi ha addirittura detto che se lei quando era bambina le avessero presentato un argomento del genere alle elementari probabilmente mai si sarebbe sognata di fare la matematica perché secondo lei bisogna semplicemente dare le informazioni di base che riguardano appunto questa materia in modo tale per chi vuole di proseguire questi studi quando invece si ritrova ad avere all'università ragazzi che non sanno nemmeno fare un'equazione di secondo grado e lei si ritrova quasi a dover partire da zero perché la scuola non è stata in grado di fornire le conoscenze basi appunto per quanto riguarda quella materia Un'altra falsa credenza che mi viene in mente così adesso pensando è quella del fulmine che viene rappresentato come qualcosa che cala dall'alto l'immagine classica di Giove che lancia le saette mentre invece il fulmine è un incontro di polarità e quindi anche questa è la falsa credenza E noi vediamo la luce della scarica elettrica la falsa credenza infatti allora a parte che i fulmini li abbiamo iniziati a conoscere da praticamente 200 anni quindi stiamo parlando veramente dell'altro ieri e poi c'è quella falsa credenza che ritiene che i fulmini non cadano mai due volte nello stesso punto dal cui poi da cui è nato anche il detto per parlare di quando può succedere una sfortuna e se è già successa allora non dovrebbe succedere un'altra volta in realtà è vero il contrario cioè gli oggetti che vengono colpiti dai fulmini sono proprio quelli più adatti ad essere colpiti dai fulmini per tutta una serie di motivi e quindi una volta che poi il fulmine si scarica lì probabilmente continuerà a scaricarsi lì durante lo stesso temporale ma anche durante i temporali successivi sia che si tratti di un elemento naturale sia che si tratti di un elemento artificiale tra l'altro poi nel libro ricostruisco proprio la storia della concezione di questi fulmini e talvolta tra l'altro antichi uomini antichi avevano intravisto bene cosa effettivamente fossero questi fulmini di questo non parlo nel libro ma ti faccio adesso un esempio perché ha a che fare comunque sempre con l'elettricità durante il Medioevo noi sappiamo questa storia ma chissà quante altre ce ne erano e non sono arrivate fino a noi c'erano dei monaci che avevano intuito l'origine elettrica appunto dei fulmini ovviamente non hanno utilizzato il termine elettricità quindi parlavano con il linguaggio del tempo ma di fatto avevano capito che era un'origine naturale quindi non per forza il Dio che si arrabbiava e facevano qualcosa di soprannaturale parlando di scariche parlando di poli opposti eccetera eccetera avevano intuito che era effettivamente un gioco fisico quello del fulmine ma all'epoca non si poteva dire quindi diciamo che la loro intuizione anche loro non fecero una buona fine adesso sfogliando proprio il libro di tutte le materie scolastiche sì penso che le scienze naturali siano piene di queste purtroppo di queste di queste cose ecco in matematica c'è qualche esempio di falsa credenza? allora quelle diciamo più rilevanti sono quelle che legano cercano di legare la matematica a qualcos'altro perché c'è l'idea che se uno si ferma a una formula o a raccontare la storia della matematica la cosa non è abbastanza interessante per gli alunni e quindi si cerca di legarli ad argomenti che vengono ritenuti più interessanti è proprio eclatante proprio il caso della sezione aurea perché? perché non coinvolge solo la matematica e già lì ci vogliono delle conoscenze avanzate per esempio di algebra ci vogliono delle conoscenze di triconometria ci vogliono delle conoscenze di geometria per comprendere appieno questo fenomeno perché dalla sezione aurea poi parte anche il discorso dei rettangoli aurei parte il discorso della spirale aurea eccetera eccetera ma per rendere ulteriormente difficile tutto questo allora si parla per esempio della presenza della sezione aurea all'interno della natura o all'interno delle composizioni musicali eccetera ecco allora direi cerchiamo di fare un attimo di chiarezza per quanto riguarda questo tema allora partiamo col dire che non sempre per quanto noi ne sappiamo si è conosciuto questo rapporto di numeri è un rapporto di numeri siccome non abbiamo documenti che ci attestano la conoscenza certa appunto di questa di questo rapporto prima della civiltà greca affermare che sia stata utilizzata nella costruzione per esempio della piramide di Cheope non è un qualcosa di supportato possiamo dire che noi oggi riscontriamo la presenza della sezione aurea all'interno della piramide di Cheope ma ciò non vuol dire che sia stato volontariamente concepito tutto questo dai costruttori perché appunto non abbiamo delle fonti documentarie quindi questo ovviamente bisogna essere chiari pensa che sono stati anche fatti degli esperimenti e hanno visto che se anche io mi metto a disegnare delle linee a caso sul foglio ecco molte di queste conterranno la sezione aurea è come se fosse un concetto innato all'interno di noi e quindi in maniera involontaria l'ho espresso appunto fenomenicamente quindi appunto disegnando su un foglio ma come posso appunto realizzare delle sezioni auree posso anche realizzare delle altre sezioni perché non è l'unico rapporto che è presente nel mondo naturale in ciò che esiste ne esistono anche degli altri e tra l'altro non è nemmeno quello più diffuso quello della sezione aurea parliamo appunto della natura molto spesso abbiamo visto per esempio il nautilus pompilius quindi questa grande conchiglia che appunto sarebbe uno dei e tra l'altro l'esempio forse più citato per parlare appunto della sezione aurea quando invece la spirale che è contenuta all'interno di questa conchiglia non è una spirale aurea è invece una spirale logaritmica che tra le varie possibilità ha anche quella di essere aurea ecco vedi sono concetti complessi semplificando quindi si dice che lì è presente quando invece non è presente è presente un altro tipo di spirale ma tra l'altro c'è anche un'altra cosa da dire perché se anche in nuce quindi nella possibilità c'è appunto il fatto che ci sia effettivamente lo sviluppo di una sezione aurea all'interno di una situazione naturale per esempio un fiore eccetera poi non è detto che questo si esplichi effettivamente perché ovviamente poi influisce anche il clima influisce l'azione degli altri animali eccetera e quindi diciamo che una cosa che c'è in potenza non è detto che poi si possa estrinsecare anche quando la pianta per esempio è cresciuta e questo vale anche per gli animali parliamo poi del caso ecco il caso delle architetture è emblematico perché perché praticamente gli studi che hanno voluto dimostrare la presenza della sezione aurea anche in assenza di documenti in cui i costruttori abbiano affermato il loro utilizzo appunto di questo rapporto in maniera non scientifica quindi un po' in maniera immaginifica cercano di mettere in relazione alcune parti di quella costruzione con delle altre parti quando però non c'è nulla appunto che ti giustifichi a utilizzare questo rapporto mettendo per esempio al numeratore quella parte dell'edificio al denominatore quell'altra parte è una tua scelta appunto volontaria quindi non è un metodo scientifico di procedere la stessa cosa per quanto riguarda il corpo umano c'è tra l'altro un caso incredibile di alcuni studiosi che avevano definito avevano detto che c'era che era stata utilizzata la sezione aurea per quanto riguarda una statua greca questa statua però è a cefala naturalmente ha perso la testa e quindi hanno fatto i loro calcoli sulla statua cefala come se appunto il suo costruttore avesse deciso che dovesse perdere la testa a un certo punto della storia nel campo della musica e a tantissimi campi e questo va a sminuire il valore effettivo di questo rapporto incredibile tra l'altro non è detto che questo voglia dire anche un certo innatismo in noi del concetto di bello del concetto di proporzionato sì ma questo non vuol dire effettivamente di bello ma ci sono dei documenti incredibili che appunto vengono utilizzati a scuola e io ho fatto riferimento solo ai siti ufficiali quindi delle scuole dei maestri che utilizzano questi materiali dei professori eccetera dove tutto quello che noi ci stiamo dicendo è tutto concentrato nello stesso documento ci sono tutte queste false credenze credo che la parte della sezione aurea l'intervista alla matematica sia la più la più grande perché appunto abbiamo dovuto correggere tantissime informazioni errate e poi c'erano anche i prodotti gli elaborati scritti da alcuni alunni e siccome già l'insegnamento era errato l'elaborato era errato il doppio e quindi c'erano veramente delle informazioni che non stavano né in cielo né in terra ma erano state pubblicate sia dalle scuole quindi avallate dagli insegnanti ma alcuni addirittura su un sito di un giornale molto conosciuto che ha la sua sezione scuola e sto parlando della Repubblica nell'ambito della storia immagino che ce ne saranno di false credenze qui si entra anche nel discorso di come i fatti storici vengono manipolati si dice la storia è scritta dai vincitori ce ne sono secondo me se uno si mette a ragionare ci arriva anche per intuito appunto confrontando quello che si è studiato a scuola con la conoscenza che ognuno si è formato successivamente è andato a leggere dei libri che hanno smentito quello che gli era stato insegnato a scuola e questo è abbastanza inquietante perché uno dice vai a scuola impari le cose invece ti tocca dopo andare a ricominciare a studiare per cancellare queste false informazioni e sostituirle con quelle corrette ma infatti guarda ti dico che questa cosa in realtà l'ho riscontrata molto addirittura all'università è meno grave rispetto alla scuola perché già comunque sei formato e ti stai avvicinando verso la fine del tuo periodo di adolescenza l'inizio dell'adultità però comunque diciamo che sono cose che ti segnano se tu all'università impari nel corso di storia contemporanea che torri gemelle parliamo di Isis eccetera è chiaro che poi quelle conoscenze vanno a formare la tua percezione del mondo anche perché quelle cose non le hai studiate a scuola non si arriva fino al periodo più recente però ci si sente come dire in diritto nel corso di storia contemporanea di studiare qualcosa che intanto non è storico perché ancora non si sono avuti tutti i documenti eccetera è più attualità è più qualcosa che pertiene all'ambito del giornalismo la ricerca della verità nei fatti più recenti ma addirittura si danno delle informazioni totalmente errate io come dire per decenza non sono uscito dalle lezioni di storia contemporanea che ho dovuto sorbirmi presso l'università ma ho ascoltato delle cose che non stavano realmente né in cielo né in terra di più perché queste questioni che io ho definito nel libro si chiamano ne possiamo come dire agganciare all'ambito dello scetticismo non sono teorie non c'è una teoria che ipotizza un complotto quelle sono altre quelle sono la terra piatta eccetera e non hanno a che fare con queste situazioni queste invece sono situazioni problematiche dove esistono delle posizioni differenti e quindi chi è scettico chi vuole approfondire i fatti appunto intanto non ha assunto nessuna posizione non ha nessuna teoria da difendere poi va a raccogliere tutti i dati fa i suoi ragionamenti e alla fine se è il caso la posizione la prende ed è l'unica ragionevole che si possa prendere ed è quella appunto che prendono tutti gli scienziati del mondo che hanno analizzato appunto quel tema e sto parlando nel caso specifico dell'11 settembre e siccome tra l'altro io ho portato i documenti per quello che affermavo ne ho parlato tranquillamente lì in aula all'università portando anche le fotografie e nessuno mi ha potuto dire nulla perché appunto se uno parla mostrando effettivamente quello che sta dicendo allora non può essere assolutamente attaccabile all'università appunto in questo corso del quale ti stavo parlando e non è un unicum credo credo invece che sia la normalità nei nostri atenei non veniva neanche sottolineato il fatto che fosse una questione problematica cioè che alcune persone non condividessero quella versione invece no è successo è un po' come se stessimo studiando la storia dei mai è successo questo è successo quell'altro punto una persona che non è attenta a questo mondo impara quello e basta impara la storia e la stessa cosa vale per l'isis veramente è come se fosse una barzelletta quel libro lo potrei lo potrei chiamare la barzelletta degli ultimi vent'anni per quanto riguarda l'ambito comunicativo era comunque ottimo perché aveva l'attenzione per i dislessici eccetera però per i contenuti appunto era letteralmente vergognoso tornando a quello che stavamo dicendo poi per la scuola effettivamente io anche mentre studiavo poi durante il mio liceo liceo classico mi rendevo conto che molte cose non andavano bene però durante il mio percorso ho anche avuto la fortuna di conoscere dei professori illuminati che addirittura ci mostravano versioni diverse degli stessi fatti proprio in classe e quindi questo alimentava il dibattito alimentava la discussione alimentava la curiosità ecco io ritengo che la scuola intanto per come configurata oggi non funziona quindi torturiamo i nostri bambini non l'esperienza diretta perché io conducendo quella trasmissione ho anche dei ragazzi molto giovani che mi seguono a partire dai 12 anni addirittura 12-13 anni e spesso parlo con loro mi parlano della scuola di come vivono i musei eccetera eccetera e ancora oggi è così dobbiamo partire dalla domanda cioè il modo per imparare le cose deve essere quello della curiosità far nascere il dubbio nei bambini nei ragazzi e insieme tutti insieme tutta la classe insieme tutto anche con il professore andare alla scoperta di ciò che ci può far risolvere quel mistero far risolvere quel dubbio e alla fine quindi avremo scoperto una cosa tutti noi insieme quella cosa tra l'altro ce la ricorderemo meglio perché si è visto che dopo due settimane quindi per quanto riguarda la memoria a medio lungo termine ciò che abbiamo letto all'interno di un testo lo ricordiamo solamente per il 10% ciò che invece abbiamo fatto insieme quindi coinvolgendoci emozionandoci vivendo delle esperienze al 90% quindi è chiaro che agganciando ciò che abbiamo imparato all'esperienza al ricordo di quell'emozione noi effettivamente ci ricordiamo buona parte di quello che abbiamo imparato con quell'esperimento tra l'altro stimolando il dubbio non ci fermiamo mai a quello che gli altri ci dicono io per cercare di fare questa cosa qua sai cosa mi sono inventato mi sono inventato lo spin off appunto di questa trasmissione perché mentre la trasmissione è trasmessa su una piattaforma che è rivolta solamente ai maggiori di 13 anni dai 13 in su non si può fare divulgazione se non ci si riferisce anche a quelli più piccoli perché divulgazione vuol dire che tu parli a tutti contemporaneamente anche le persone più piccole e quindi appunto mi sono inventato quest'altra versione che invece su YouTube Fiore Kids che si rivolge proprio appunto ai bambini specialmente di scuola elementare e scuola media e come parte questa trasmissione? con il gioco delle domande cioè la missione dei bambini che mi seguono è ogni cosa che qualcuno ti dice ogni cosa nuova che tu impari tu devi fare almeno una domanda perché da quella domanda può nascere un qualcosa di nuovo quindi il maestro ti dà una paginetta di scienze da imparare non ti fermi a quella paginetta di scienze tu al maestro farei una domanda che riguarda quello che hai imparato e così ti devi abituare a fare sempre sempre tante domande e quindi io spero di evitare di ritrovarci nella situazione attuale e anche in futuro perché effettivamente da cosa nasce tutto questo? Nasce dal fatto che le persone non hanno avuto la capacità di farsi delle domande di trovare delle risposte partendo dai più piccoli magari in futuro appunto questo si potrebbe evitare Forse è la prima volta che abbiamo trattato così chiaramente proprio un problema di che cosa serve la scuola in pratica perché se la scuola serve a impedire di farsi delle domande perché adesso poi i testi tendono ad essere molto propagandistici riflettendo naturalmente i testi scolastici riflettono sempre il periodo storico in cui vengono utilizzati e adesso stiamo un po' ritornando al libro e moschetto nel senso che per esempio ne parlavo con gli amici che hanno scritto Iconoclastia Emanuele Mastrangelo e Enrico Petrucci si parlava ad esempio delle adesso le chiamano migrazioni barbariche e non più invasioni barbariche però di fatto erano invasioni quindi viene stravolto completamente il senso di un fatto storico ormai acclarato perché queste popolazioni che calavano da est venivano non per portare così le pastarelle i fiori ma venivano a conquistare eppure nei libri adesso le chiamano migrazioni barbariche quindi c'è un utilizzo anche della della lingua no? dei termini si potrebbe fare un discorso sulle fallace che vengono utilizzate nella comunicazione magari un'altra volta ne parleremo come con certi artifici della lingua si riesce a a ingannare poi alla fine e a creare queste false credenze no? tipo la scienza sostiene che guarda sì ho anche effettuato un confronto ma per mia curiosità personale tra i libri più recenti proprio degli ultimi anni quelli attualmente in uso e libri invece più antichi non solo quelli che utilizzavo io ma anche quelli che utilizzavano i miei genitori i miei nonni bene avrei notato sicuramente la semplificazione assoluta sì quindi tante immagini certamente coinvolgente eccetera ma l'informazione è veramente risicata quindi pochissime informazioni termini in grassetto eccetera e le informazioni sono quelle è molto semplice no? è tutto schematico e quindi le cose sono andate in quella maniera la semplificazione in questo caso non aiuta a problematizzare il mondo a farsi domande perché è molto semplice quando invece siamo di fronte alla complessità quindi a dei testi scritti sui quali bisogna ragionare sui quali bisogna interrogarsi se effettivamente i vari passaggi sono stati compresi eccetera testi tra l'altro ho visto che pongono delle domande quindi mettono in luce quali erano delle difficoltà di interpretazione per esempio relativamente a certi fatti storici eccetera è chiaro se tu hai a disposizione poco spazio nella tua pagina perché il resto è ricoperto da tante immagini non puoi per una semplice questione pratica mettere in luce difficoltà di interpretazione quindi devi semplificare all'osso io infatti mi sono divertito molto a studiare per esempio la storia moderna e quella contemporanea non solo sui manuali di adesso già i manuali diciamo che mi piacciono poco perché cercano di semplificare un qualcosa di molto molto più grande ma proprio andare a leggere i testi effettivi degli storici perché molte volte gli storici hanno delle idee differenti anche nello stesso periodo storico e quindi alcuni dicevano una cosa altri dicevano un'altra i documenti erano gli stessi ma venivano interpretati in maniera differente ecco di fatto è questa l'attività che andrebbe fatta segnalare quello che è stato dimostrato in maniera scientifica perché anche quando si utilizza il termine dimostrazione spesso lo si fa in maniera non troppo corretta nel linguaggio scientifico dimostrazione è una cosa molto semplice vuol dire che tu segui un certo ragionamento eccetera e alla fine accerti un qualcosa che esiste e che si sa che esiste per esempio il fatto che la terra ha una forma quantomeno geoidale è una cosa che esiste e tu dimostri il perché ce l'ha quindi quella è la dimostrazione molto semplice tante altre volte invece tu semplicemente mostri delle cose elenchi delle cose metti in luce delle cose fai degli esperimenti e noti che alcune persone rispondono in una maniera altri in un'altra non hai dimostrato nulla hai mostrato appunto quella semplice situazione ecco molto spesso si fa appunto questa distinzione non si fa questa distinzione ma la chiarezza sia in questo campo sia in come interpretiamo la storia eccetera quantomeno ai livelli più elevati e all'università ti assicuro che ho visto anche manuali del genere ed è un qualcosa di incredibile proprio l'università che deve insegnarti a utilizzare la complessità e ad andare alle fonti originali ecco un'altra cosa è quella andare alle fonti originali se tu vai alle fonti originali come tra l'altro mi sono divertito a fare io l'anno scorso in una rubrica nata proprio da questo libro lo scettico dove ogni settimana smentivo una notizia del mainstream l'ho fatto per 20 settimane 5 mesi andavo sempre alla fonte originale e verificava appunto che citavano lo studio scientifico ma che non dimostrava quello che c'era scritto nell'articolo e quindi via con i super diffusori del covid via con il vaccino via con eccetera eccetera ma la ricerca non diceva questo diceva tutt'altro e quello invece che diceva di opposto rispetto a quello che c'era scritto nell'articolo non veniva riportato nell'articolo stesso senti quale può essere la conseguenza più evidente in età evolutiva della somministrazione di nozioni errate cioè della creazione di convinzioni errate sul mondo sulla realtà ecco questo è che secondo te che impatto può avere poi a lungo termine crescendo nella formazione non solo nella formazione culturale di un bambino ma proprio nella sua visione del mondo allora ci sono due livelli di risposta che ti posso dare la prima ha a che fare con diciamo il modo in cui ho diviso separato queste false credenze quindi ovviamente quelle pericolose se tu credi che bere l'alcol ti riscaldi e rischi di morire eccetera ecco per quanto riguarda invece l'altra l'altro livello di risposta da un lato tu hai delle persone che imparano a essere curiosi a farsi domande e quindi a non accontentarsi mai ad avere sempre il dubbio dall'altro lato invece delle persone che hanno imparato delle cose sono certe di quello che hanno imparato e su quelle cose che hanno imparato mai messe in discussione invece dobbiamo imparare a mettere in discussione anche le basi le cose più semplici addirittura il colore dell'acqua quindi ciò che riteniamo di più scontato potrebbe assolutamente non esserlo anzi la storia che andremo a scoprire sarebbe anche molto più interessante e molto più affascinante di quello che invece abbiamo imparato sin da bambini appunto abbiamo delle persone che danno tutto per scontato e le varie conoscenze che acquisiscono devono comunque incasellarsi nella visione del mondo che si sono fatti prima quindi se trovano delle notizie che possono essere lontane da quello che appunto ritengono vere addirittura ci può essere l'effetto contrario perché a causa dell'eco chamber della camera dell'eco praticamente non solo respingo quella situazione che non trova spazio nel mio mondo ma estremizzo sempre di più la mia posizione di partenza e quindi mi confronterò sempre di più con chi la pensa alla mia stessa maniera ed ecco allora che poi si formano i gruppi e questa è proprio la psicologia sociale ci aiuta a comprendere anche la situazione attuale e quindi la risposta delle persone a notizie a fatti che non possono entrare nella propria visione del mondo tra l'altro questo è un altro dei motivi per i quali uno psicologo in particolare aveva evidenziato che ti ricordi quando si parlava dei fantomatici troll russi che attraverso delle fake news dovevano sabotare i risultati delle elezioni eccetera lui appunto ha mostrato che non solo questo non era possibile ma addirittura avrebbe avuto l'effetto opposto quindi queste fake news dei russi se avessero funzionato avrebbero in realtà estremizzato quelli che la posizione già ce l'avevano e quindi avrebbero avuto esattamente l'effetto opposto dall'altro lato invece appunto abbiamo le persone che sono sempre alla ricerca della verità quindi qual è diciamo l'effetto peggiore che si può avere l'effetto è che queste persone si estremizzano sempre di più e quindi non riescono a porre fine a questo castello di sabbia che si stanno costruendo dovremmo trovare il modo di educare alla scienza perché effettivamente questo è il metodo scientifico queste persone manca l'educazione scientifica è un'educazione che deve essere fatta anche alle persone più adulte secondo te per concludere la scuola per come è strutturata oggi per come si è evoluta la sensazione è che si stia andando non verso un'apertura ma una chiusura di tante proprio di libertà nel senso più ampio del termine ecco non hai la sensazione che la scuola per come è strutturata adesso abbia il compito di frenare lo sviluppo di bloccare la conoscenza rinchiudendola in un qualcosa che ha dei confini e non potenzialmente liberando la possibilità di apprendere e di per esempio di fare delle nuove scoperte sembra che viviamo in una società in cui non si può scoprire più nulla tutto è stato scoperto codificato sappiamo tutto dell'universo invece non sappiamo proprio un bel niente ecco quindi questa questo tipo di scuola sinceramente c'è serve o non c'è serve allora conosciamo di più la superficie di Marte per comprendere questa cosa che non i fondali degli oceani sappiamo solamente cosa c'è nel 5% dei nostri fondali oceanici il 95% non lo sappiamo non conosciamo nemmeno tutte le correnti oceaniche che ci sono sul nostro pianeta le direzioni che hanno eccetera quindi dire francamente appunto che abbiamo scoperto tutto è una barzelletta e chissà quante delle cose che riteniamo di aver compreso e di aver scoperto in realtà sono delle grandi stupidaggini la scuola che ti ho cercato di disegnare in maniera veloce prima cioè una scuola laboratoriale esperienziale eccetera è effettivamente l'esatto opposto di quella di oggi io mai mi sognerei oggi di mandare mio figlio in questa scuola e né tantomeno nelle altre attività extrascolastiche infatti onore a tutti quei genitori che si stanno spingendo nell'istruzione parentale io stesso adesso sto entrando a far parte di una di queste associazioni per cercare di fornire un mio contributo anche se purtroppo non dal vivo perché nella mia città non c'è questo tipo di realtà bisogna immaginarci una nuova scuola che parta da dove questa è una scuola anticostituzionale perché la scuola prevista dai nostri padri costituenti andando a leggere la costituzione andando a leggere quello che hanno scritto le varie conferenze eccetera è totalmente diversa rispetto a questa cosa serviva la scuola cosa dovrebbe servire nel nostro paese serve a educare i bambini i ragazzi ai valori fondanti della nostra società quindi i valori della costituzione italiana e serve a istruirli ovviamente il ruolo principale nell'educazione lo ha la famiglia e il ruolo principale nell'istruzione appunto lo dovrebbe avere la scuola ma il fatto è che c'è stato uno scollamento tra educazione e istruzione e quindi nell'insegnamento insegnare vuol dire educare più istruire è formato da queste due parti cioè lasciamo un segno positivo nelle nuove generazioni attraverso il tirar fuori da loro quello che di meglio c'è in loro stessi e quindi educandoli a vivere all'interno della nostra società con i valori nostri educare e dall'altra parte mostrargli come funzionano delle cose quindi come funziona la matematica come funziona la nostra lingua eccetera istruirli io vedo molti moltissimi è un eufemismo la maggioranza del dei maestri dei professori oggi che sono bravissimi istruttori ma che non sanno assolutamente educare entrare in una relazione educativa con questi ragazzi e di fatto quindi non lo spirito costituzionale che è lo spirito collaborativo che è lo spirito aperto al dialogo che è lo spirito aperto ai rapporti con persone diverse da noi di altri popoli eccetera è totalmente assente da questa realtà sicuramente tu avrai visto i nuovi libri di testo che contengono anche delle cose abbastanza particolari relativamente alla situazione nella quale ci troviamo ma come vengono date queste informazioni tenendo conto appunto di tutto quello che si sta dicendo nell'ambito scientifico oppure non tenendo conto di questo ma addirittura affermando delle cose che non sono condivise dalla comunità scientifica e che provengono invece da studi non affidabili in conflitti di interessi e che non pertengono all'ambito scientifico per definizione ecco e questa seconda naturalmente la risposta e quindi come verrà raccontato il momento che stiamo vivendo adesso alle nuove generazioni come verrà raccontato in futuro e come saranno loro stessi a raccontarlo a chi verrà dopo è chiaro che stanno scrivendo la storia la stanno scrivendo come dicono loro non è detto ovviamente che ci riusciranno però di fatto dobbiamo innanzitutto scardinare anche l'idea stessa di scuola che c'era fino a questo momento lanciamo una provocazione sappiamo per esempio che il momento migliore per imparare delle cose nuove per far lavorare il nostro cervello la nostra mente non è la mattina la mattina dovremmo utilizzarla per il nostro organismo per andare a correre per fare attività per uscire fuori all'aria aperta eccetera il momento migliore invece proprio per i nostri cicli biologici è quello del pomeriggio dopo pranzo e quindi perché non impariamo le cose nuove proprio durante il momento del pomeriggio ma non stando seduti divertendoci giocando facendo i laboratori ridendo andando in giro andando direttamente nei luoghi convolti eccetera perché allora invece i bambini di oggi o quantomeno fino a prima del covid erano impegnati cinque sei ore la mattina a scuola poi avevano mille cose da fare subito dopo poi avevano la palestra alla sera e alla fine erano vittima di stress alla loro età cosa che addirittura è andata a incrementarsi adesso ecco un sistema letteralmente criminale quindi noi nel nuovo mondo che magari stiamo cercando di costruire certamente dobbiamo ripensare anche la scuola proprio dalle fondamenta non migliorarla ma abbatterla del tutto e crearne una nuova perché questo ormai è criminale e dal crimine non può nascere nulla di buono sono assolutamente con te sottoscrivo questa necessità di ripensare anche anche il ruolo della scuola il ruolo dell'insegnamento e sono convinta che ci sia tanta tanta possibilità tanto potenziale perché ci sono tanti tanti bravi insegnanti tante brave famiglie che appunto si rendono conto che i loro figli a scuola non non stanno imparando ma sono appunto come dicevo prima rinchiusi in questo bozzolo dove per carità si devi conoscere queste quattro cose però la quinta non ci sta lo spazio non è troppo ristretto quindi ti ringrazio per questa questo appello perché secondo me è molto importante in questo momento ma lo sarà sempre anche in futuro quindi io ti ringrazio ringrazio questa bella acquisizione che ha avuto oggi l'orizzonte degli eventi ti invito già da adesso a ritornare perché sono sicura che troveremo altri altri argomenti da trattare ricordo naturalmente il tuo libro l'acqua è blu ma non la scuola ringrazio Ivan Fiorillo e do l'appuntamento come sempre alla prossima settimana al prossimo incontro ciao Ivan a presto grazie è stato un onore perché ero prima spettatore del vostro canale adesso è stato un qualcosa di molto bello ti ringrazio davvero di cuore Barbara grazie a te figurati ciao 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 ciao